Il personal branding sia connaturato al lavoro di me, il personal branding è una cosa che tutti già abbiamo, il modo in cui ci vestiamo, il modo in cui camminiamo, il modo in cui parliamo è già un modo di fare personal branding. Credo che tutti quanti quelli che svolgono la professione di manager, ma non solo, dovrebbero essere interessati a capirne di più. Se il candidato sa che l'azienda favorisce l'espressione del suo personal brand, sarà più portato a scegliere quell'azienda. Il personal branding è, in una parola o in due parole, volersi di più e credo che se c'è un momento storico in cui volersi di più è necessario, sia esattamente questo. Il problema sostanziale è se il personal branding è funzionale ai tuoi obiettivi, agli obiettivi di business o nella vita che ciascuno di noi ha.